Oggi in Edicola, Rassegna Stampa Il comune prepara le gare, evidenze pubbliche al lavoro, una task force di tecnici ed esperti, anche se mancano ancora le regole da parte del governo, ma intanto il comune procede da sé. In taglio alto la cronaca picchia la madre, 83enne in carrozzina, il disoccupato 48enne ha cercato anche di imbavagliarla, fra virgolette, davanti ai poliziotti ed è stato arrestato. Sempre dalla prima pagina delle Corriere a centro pagina, la fotonotizia, ex questura scure sul cemento, il progetto e le modifiche presentate ieri anche in un incontro pubblico proprio di fronte a rudere dell'immobile dalla nuova proprietà. Mantide del Topicida, ancora la cronaca in taglio basso, pena confermata, tentò di avvelenare il marito, è stata confermata la sentenza della Corte d'Appello che aveva inflitto 10 anni, in prima sentenza chiaramente erano stati inflitti 10 anni alla donna. Sempre dalla prima pagina, in spalla, area Foxy, lavori primi, 100 posti in arrivo, in attesa poi del progetto di riqualificazione, ma era anche questa una notizia attesa. Poi a San Marino, milioni dall'Arabia per l'aeroporto e poi paleoliche in mare. Ecco i documenti, il progetto a Roma anche con queste richieste di specifiche. Dall'altra parte troviamo lo sport, una piccola anticipazione, MotoGP Bezzecchi vuole essere il terzo incomodo, basket di serie A2, RBR è pronta a migliorarsi ancora e poi si parla anche di spettacolo e cultura perché torna il premio Riccione. Vediamo anche la prima pagina dell'arresto del Carlino, qui la notizia di cronaca, picchia madre disabile arrestato è in primo piano, la donna stanca dei maltrattamenti ha chiesto l'aiuto della polizia. Anfiteatro, tesoro dimenticato, ma l'amministrazione promette la valorizzazione dell'antica arena, è uno dei nodi della cultura che giustamente vengono anche presi in considerazione vista la candidatura ufficializzata di Rimini, capitale della cultura 2026. A centro pagina l'incontro di Asi con i residenti dell'area nella zona dell'ex questura, braccio di ferro sull'ex questura, la proprietà incontri cittadini, il progetto di riqualificazione viene presentato, disposti dicono d'Asia a dialogare con il comune ma non veniamo ascoltati. Concessioni, governo assente, pensiamo noi a dettare le regole, queste le parole dell'assessore Roberta Frisoni, siamo sempre a Rimini. Aria Fox, anche qui siamo nel riminese, si lavora per il parcheggio temporaneo. A Riccione, locali ed hotel, la commissaria vara il bando Salvo De Or. E poi, in taglio basso, da una parte una bella notizia, si sa chi sarà premiato con Loiano Planco d'Oro, cerimonia il prossimo 2 dicembre, voluto dall'Ordine dei Medici. Ecco, sarà Matteo Ravaioli, un importante chirurgo originario di Rimini, figlio anche dell'ex sindaco, nonché medico e oncologo Alberto Ravaioli e da tanto tempo impegnato nel lavoro a Bologna. E poi, il cartellone teatrale di Riccione, è stato presentato ieri insieme alla Riccione per il teatro, Ambre di Isabella Ferrari, star della bella stagione. Queste sono le prime pagine dei quotidiani locali. A questo punto entriamo all'interno delle pagine delle Corriere. Intanto, prendendo atto di una notizia più a carattere regionale, rallenta l'economia regionale, in ribasso le stime di crescita, l'indagine di Union Camere mostra diversi elementi di criticità. Ma l'Emilia Romagna rimane la locomotiva produttiva del paese. Sono in calo, infatti, però, purtroppo, le proiezioni del Pile. Questa è una notizia a carattere regionale. Poi c'è una notizia in primo piano, che riguarda il Cesenate. L'ite per il mancato aiuto per i compiti virale, il video della rissa tra ragazze, aggredita da tre compagni di classe per non aver fatto copiare i compiti, nella zuffa sfiorate da auto e bussi. Insomma, il Corriere propone anche alcuni fotogrammi di questo pestaggio, perché davvero può essere definito tale, giustamente, insomma, coprendo i volti delle ragazzine, ma nelle varie azioni si vede una certa aggressività e una certa violenza. E ora andiamo alle notizie riminesi. Cercò di assassinare col veleno il marito. L'appello conferma la condanna, dieci anni. Gemma Pirani voleva salvare l'eredità per i due figli avuti con un altro uomo, la Mantide, oggi 83enne, che in quel modo così atroce aveva cercato di disfarsi del secondo marito Dino Pirani, che all'epoca dei fatti 2018 di anni ne aveva 84. Sarebbe stato il secondo consorte a salutare prematuramente la vita, ma al di là del passato ora ci si concentra proprio sulla conferma di questa condanna. Questa signora venne tradita dai medici dell'ospedale, dove il consorte era stato ricoverato per una grave emorragia intestinale causata proprio dal topicida. Non gli dà i soldi per andare a divertirsi. Pesta la madre, 83enne, in sedia a rotelle. La donna, salvata dall'intervento della polizia, chiamata dalla figlia, il 48enne è stato arrestato. Insulta, minacce, aggressioni. La mamma di 83 anni non ne poteva veramente più ed è stato arrestato per maltrattamenti questo uomo di 48 anni che ha continuato ad oltraggiare, ha cercato di zittirla mettendo le mani sulla bocca anche quando nel loro appartamento, nel cuore di Rimini, martedì pomeriggio sono entrati gli agenti di un equipaggio delle volanti della questura. chiamati da un'altra figlia, i poliziotti hanno subito capito che la situazione era abbastanza grave, strilla, urli da parte dell'uomo nei confronti dell'anziana madre. Paleoliche in mare, lo scatto in avanti, verifiche fatte, ecco tutti i documenti. Valutazione di impatto ambientale, la replica, le osservazioni. A parlare alle pagine del Corriere questa mattina è il progettista Selano che spiega come siano state consegnate al ministero le integrazioni. Dice abbiamo incaricato i migliori studi di analisi dei fondali, non sono emerse criticità, ora auspichiamo l'ok della commissione. Quando si parla di criticità lui dice non ne sono emerse né come presenza di specie protette né come presenza di un habitat ad elevato pregio ambientale. Quindi a suo dire ad oggi la commissione ha tutti gli elementi per decidere il da farsi. Quindi sedare il via libera come chiaramente loro si augurano oppure bloccare il progetto. Però diciamo che dopo tanti tentennamenti, dopo tanti anni e anche cambiamenti di progetti per andare incontro anche alle tante critiche che erano arrivate sul territorio, ora la parte burocratica sembra in discesa. Almeno questo si intuisce da questo articolo. Si tratta di una relazione, l'ultima consegnata a Roma, di 58 pagine con un rapporto tecnico-scientifico di 615 fogli dai tecnici incaricati da Energia Wind 2020. Ma dal mare passiamo alla spiaggia. Il comune accelera i tempi, task force al lavoro, gare a fine anno. Al via un gruppo di lavoro per definire i procedimenti relativi alla messa a bando delle concessioni balneari. Il titolo è abbastanza esemplificativo. La sabbia che scotta, la pratica, viaggia parallela al nuovo piano spiaggia. Tutto ciò in assenza delle linee guida attese dal governo. I bandi dovranno rispondere agli obiettivi del nuovo strumento urbanistico e alle esigenze di riqualificazione e innovazione. Cosa dice l'assessore Frisoni? Il quadro normativo è ancora carente di indicazioni chiare in merito alle modalità con cui espletare le evidenze pubbliche. Allo stesso tempo però ci sarà un tavolo tecnico politico che almeno fino alla fine dell'anno si riunirà ogni settimana per la definizione dei procedimenti per la messa a gara delle concessioni balneari e il percorso di accompagnamento all'adozione del nuovo piano dell'arenile. Per cui si procede parallelamente. Poi che le gare siano pronte a fine anno probabilmente il comune avrà una sua idea ma immagino serviranno anche queste linee guida da parte del governo perché sappiamo insomma che è un tema molto caro in particolare a chi vive sulla spiaggia e lavora sulla spiaggia e sulla spiaggia porta anche il suo talento e le sue capacità. Ora andiamo nel centro storico di Rimini Area Fox dopo anni riapre il cantiere parcheggio temporaneo da 100 posti diciamo che è una notizia che era attesa da tempo almeno da tutta l'estate perché questo parcheggio almeno nelle previsioni originali doveva essere pronto già da qualche mese comunque il cantiere per la riqualificazione del terreno a carico di Coppa Alleanza è momentaneamente sospeso però potrebbe essere la volta buona per questo parcheggio temporaneo che poi va a servire la zona del centro storico perché ricordiamo che l'area Fox è tra via Circonvallazione e via Bramante 100 posti, quelli che dovrebbero essere realizzati a questo punto in tempi abbastanza brevi nel progetto finale che chiaramente vede anche la creazione e la realizzazione di un supermercato di media piccola dimensione in tutto saranno poi disponibili 328 posti auto verde pubbliche una rotatoria tra via Melozzo e via Bramante queste sono le novità insomma che sono emerse proprio nella giornata di ieri e c'è stato un altro incontro nel pomeriggio di ieri di fronte all'immobile di quella che sarebbe dovuta diventare la questura per i riminesi la si definisce ex questura ma lo sappiamo bene questura non è mai stata ma per semplificazione tutti così si intendono Asi dà un taglio al cemento e il market dicono non lo ampliamo per 10 anni Rimini Life incontra i residenti davanti allo stabile di via Roma e dicono ancora un centro logistico è falso dire che c'è quindi anche questa notizia a loro avviso non è corretta da una parte volano parole grosse contro il comune accusato di mantenere l'area dell'ex questura in uno stato di abbandono ma dall'altra viene offerta una prova di buona volontà Asi firmerà l'impegno a tenere bloccata a 1500 metri quadrati l'area di vendita del centro commerciale l'appuntamento di ieri è stato proprio davanti all'immobile circa una cinquantina le persone che hanno partecipato che hanno ascoltato anche le idee in particolare di Marco D'Adalto che è il progettista di Rimini Life e lui ha spiegato anche di fronte a chi dice ma sono troppe le strutture commerciali a Rimini il numero di metri quadrati di commerciale ogni 1000 abitanti è il più basso della regione e poi il guanto di sfida quando il primo cittadino dice ancora D'Adalto ci accusa di sventolare degrado e insicurezza come forma di ricatto ci offende chissà se mai questo dialogo con il comune potrà riprendere in realtà forse non è mai realmente partito si parla anche di migranti minorenni sono tanti i minori non accompagnati che arrivano in Italia su tutto il territorio nazionale un problema che sta esplodendo anche nel riminese ci sono le dichiarazioni dell'assessore Christian Gianfredi assessore del comune di Rimini per il welfare che dice migranti minorenni pronti ad aumentare i posti abbiamo formalizzato al governo la nostra intenzione per aiutare l'integrazione anche perché con questi ragazzi così giovani forse con tutti ma ancora di più per i ragazzi giovani il tema dell'integrazione il tema di un cammino all'interno delle nostre comunità magari anche in piccole comunità che aiutino questo tipo di percorso è fondamentale e ora la cronaca giudiziaria Elios SRL evasione fiscale per milioni condannati presidente e amministratore due anni e due mesi la pena massima per Cristan e Daniele De Florio l'indagine era stata della guardia di finanza quindi ci sono quattro condanne una soluzione e due imputati che hanno deciso per il rito ordinario le accuse a vario titolo a carico dei sette indagati erano di evasione fiscale dichiarazione fraudolenta aggravata azioni che avrebbero permesso di sottrarre al fisco qualcosa come 3,4 milioni di euro c'è anche da dire che l'azienda che si occupa di pulizie oggi è in amministrazione controllata e con questo chiaramente anche cambio sono stati persi molti posti di lavoro ancora dalle pagine del Corriere una bella storia vi leggiamo solo il titolo poi vi invitiamo ad andare a leggerla nel dettaglio la sfida della giovane contadina libanese i campi del nonno rinati dopo 50 anni cambio di vita nell'entroterra siamo nella zona di San Leo la storia è molto affascinante perché lei è una ragazza libanese di 34 anni sposata con un ragazzo del posto si sono incontrati in una base militare in Libano il terreno fa parte di proprietà di famiglia del marito due ettari di questi sono stati appunto destinati a lei che si chiama Narimane Narimane aveva sempre questa passione di dedicarsi all'agricoltura in particolare all'agricoltura via e quindi ha preso questo terreno del nonno del marito proprio per vivere il suo sogno e sembra che stia andando tutto molto bene insomma il Corriere racconta la sua storia sempre dalle pagine del Corriere andiamo anche a Riccione eventi e Natale Riccione ancora al palo la commissaria Stentella rassicura ci sono degli incontri in corso però i comitati sono un po' preoccupati perché dicono siamo in un limbo politico anche manutenzione e lavori sono indietro l'accoglienza è a rischio sappiamo bene che comunque da diversi anni Riccione punta anche su un calendario ricco di eventi nel periodo natalizio per attirare ospiti ieri durante una conferenza stampa in cui è stato presentato il cartellone della bella stagione teatrale così si chiama la bella stagione ma anche di Riccione premio per il teatro diciamo che questi temi sono stati all'ordine del giorno perché chiaramente si pensa anche al Natale ancora delle decisioni definitive non sono state prese però la commissaria è certa che prima del 10 ottobre perché poi il 10 ottobre sappiamo bene che qualcosa potrebbe cambiare o forse no ma questo insomma lo diranno i giudici spera di poter presentare un calendario di eventi anche per il periodo natalizio c'è poi il tema del teatro in particolare dello spazio Tondelli che non è ancora pronto ieri è stato detto che ripartiranno a breve i lavori con la speranza che possa essere finita la parte strutturale nella primavera del 2024 e poi chissà magari poter portare già la prossima stagione teatrale proprio al teatro Tondelli intanto ci si accontenta fra virgolette ci si accontenta perché inevitabilmente gli spazi non sono quelli di un teatro ma neanche la conformazione della sala della sala Gran Turismo che è al secondo piano del Palazzo del Turismo diciamo che saranno fatte anche alcune migliorie perché sarà alzata la seconda parte della platia in modo tale che anche chi si trova in fondo alla sala possa vedere chi c'è sul palco in modo dignitoso senza doversi spostare tra una testa e l'altra di chi sta davanti l'altro aspetto è che chiaramente saranno tutti spettacoli anche quest'anno one man o woman show perché evidentemente non si tratta di un palco che può ospitare spettacoli più ampi o comunque anche compagnie con numeri più importanti di attori sul palco Cuore 21 un anno dalla strage in A4 ricordo vivo con un mese di eventi filo conduttore la mostra inutile si chiama proprio così 21 quadri realizzati dai ragazzi della cooperativa che sarà allestita al museo della città di Rimini ci sarà l'inaugurazione nella giornata di domani sabato alle 17 davvero una bella opportunità e poi a Riccione c'è una bellissima storia quella 25ennale del punto giovane questa realtà educativa che ha accompagnato nella crescita ma anche semplicemente con un passaggio nella casa del punto giovane tantissimi ragazzi migliaia di ragazzi in questi 25 anni di storia cene, pellegrinaggi e messa rock per spegnere queste importanti 25 candeline ci sono tanti progetti nati anche all'interno del punto giovane come prega audio che è ascoltato in tutto il mondo con picchi di 3000 ascolti giornalieri conta più di 30.000 utenti registrati tornando al compleanno il 12 ottobre ci sarà Don Enzo Bianchi ex priore della comunità di Bose il 13 ottobre un social contest dedicato ai giovani e al futuro e poi ancora ci sarà una cena di finanziamento un laboratorio musicale con Rachele Consolini di Radioluce e poi il 15 ottobre proprio giorno della festa e dell'anniversario ci sarà la messa rock celebrata dal vescovo Niccolò Anselmi e ora cattolica che si reinventa obiettivo stagionalizzazione questo è emerso da un incontro dell'amministrazione comunale con i rappresentanti delle categorie economiche il vice sindaco Belluzzi spiega che si vuole puntare su Germania, Svizzera, Austria a investire su sport, cultura e musica una quota dell'imposta di soggiorno andrà anche per gli eventi per cui insomma si cerca prevalentemente di intercettare ospiti e turisti stranieri andiamo a Sant'Arcangelo il supermercato Despar vede la luce il taglio del nastro è imminente inaugurazione prevista il 19 ottobre con festeggiamenti a sorprese effettuate 38 assunzioni questa è la nuova apertura che ci sarà nell'ex stabilimento Pagliarani a Sant'Arcangelo una notizia anche da San Marino l'aeroporto di Torraccia prende il volo ecco i petrol dollari dell'Arabia Saudita il governo samarinese in missione Ariad siglata la lettera di intenti 29 milioni per lo scalo e altri 70 per valorizzare il turismo e agevolare i trasporti aerei devo dire la verità che quando ho visto soldi dell'Arabia per l'aeroporto ho pensato visto che chiaramente è un aeroporto internazionale quello del Felini che fossero destinati lì invece poi in questo articolo si legge come siano destinati all'aeroporto di Torraccia prima di chiudere il Corriere di prenderci una piccola pausa andiamo a vedere anche le pagine sportive perché siamo in attesa di un altro importante weekend sportivo su più fronti e per diversi sport si parte dal MotoGP il Gran Premio del Giappone Bezzecchi promette battaglia e spera di fare il terzo incomodo la vera lotta è fra Bagnai e Martini io mi sto avvicinando dice lui ma non mi avvicino mai abbastanza spero di essere in lotta per il titolo per altre due o tre gare queste le sue dichiarazioni e poi siamo all'antivigilia di un'importantissima partita stiamo parlando della derby Cesena Rimini calcio di serie C in casa Cesena Cristian è partito meglio di Steven e con corazza fa sognare Cesena per il gemello bianconero già quattro reti in 258 minuti Spendi e il Joker capocannoniere della terza serie con cinque centri formano la coppia goal più prolifica della C questo in casa Cesena ma c'è un articolo anche dedicato a Rimini che si sta preparando a questa importante sfida una falsa partenza non sempre è sinonimo di una stagione fallimentare 4 punti dopo 450 minuti l'ultima volta nel 2012-2013 in C2 e fu salvezza addirittura in serie C nel campionato 2009-2010 arrivarono i playoff quindi un po' di storia per dire che anche se non si è partiti proprio benissimo in questo campionato la storia del Rimini dice che poi il campionato può svoltare ce lo auguriamo davvero intanto per il match di domenica sono già stati venduti 1.492 biglietti e poi si parla anche di basket incertezze la parola più gettonata Forlì e Rimini legittime ambizioni al via un campionato con tante pretendenti alla promozione ma anche grossi rischi di retrocessione l'Uni Euro prova a ripetere la grande stagione scorsa Riviera Banca vuole continuare la sua scesa dicevamo del teatro nell'inserto culture e spettacoli del Corriere Romagna trovate una bella pagina dedicata proprio ai nomi che arriveranno a Riccione per la stagione teatrale la Perla Verde continua a premiare la drammaturgia dai tempi di Calvino tornano i premi Riccione e Tondelli poi il cartellone la bella stagione e anche i giardini raccontano già si vedono alcuni nomi Caterina Guzzanti Fabrizio Gifuni Isabella Ferrari Anna Foglietti insomma sono diversi gli artisti che arriveranno sul palco della sala Gran Turismo piccola pausa e poi ci ritroviamo per leggere il resto del cardino Oggi in Edicola Rassegna Stampa Oggi in Edicola Rassegna Stampa La nostra Rassegna Stampa di questo venerdì 29 settembre riparte dalle pagine del resto del Carlino e avevamo letto questo titolo anche in prima pagina adesso andiamo ad approfondire La ferita dell'anfiteatro chiuso e nel degrado il comune promette lo riqualificheremo mezzo milione per fare nuovi scavi archeologici e rendere l'aria fioruibile vieni oltre e vedrai anche l'anfiteatro romano è uno degli interventi previsti dal comune emesso nero su bianco del corposo dossier di 64 pagine per la candidatura di Rimini a Capitale Italiana della Cultura 2026 la nuova campagna di scavi archeologici e finalmente la valorizzazione dell'antica arena che venne realizzata tra il 119 e il 138 dopo Cristo era tra le più grandi poteva accogliere fino a 15.000 persone diciamo che molti turisti affascinati dalla storia romana proprio della città di Rimini spesso si chiedono passando in quella ma come mai non è possibile vedere questo gioiello sappiamo benissimo come tanti altri luoghi dove i romani sono arrivati ben più lontani che Rimini da Roma chiaramente hanno invece saputo qualificare riqualificare e rendere anche un luogo di grande attrazione queste antiche rovine vedremo vedremo sicuramente 500.000 euro diciamo una riqualificazione almeno minima però forse è un modo per partire chiaramente ricorda anche il cardino resta da risolvere la questione del chase insomma qui lo diciamo e poi chiaramente aprirebbe tanti altri capitoli ma c'è un altro caso che viene raccontato dal resto del carino almeno viene definito così proprio in questa pagina ex questura parlano i proprietari superficie ridotta dell'aria supermercato niente ampliamenti nell'incontro che appunto si è tenuto ieri con i cittadini presentate le variazioni del progetto portato all'amministrazione resta il braccio di ferro con il sindaco però appunto in queste scelte che ha fatto Asi e spiegate da Marco D'Adalto che è il coordinatore del progetto Rimini Life si evince come comunque la proprietà anche nell'obiettivo di rendere di portare frutto per questa realtà che ha pagato diversi milioni di euro anzi più 12-13 milioni di euro quindi si parla di cifre molto importanti cerca di creare progetti o comunque di modificare il progetto perché possa essere preso in considerazione proprio dall'amministrazione comunale abbiamo proposto delle variazioni dicono riducendo la superficie a 16 mila metri quadri disponibili a firmare un atto per mantenere inalterata la superficie del supermercato per 10 anni quindi 1500 sarebbero gli iniziali almeno per 10 anni la proprietà si rende disponibile a far rimanere tale questa metratura c'è anche una commissione di controllo e garanzia che è stata richiesta proprio sulla questione dell'ex questura a chiedere è stato il gruppo della Lega che ha annunciato la convocazione dell'organismo consigliare che ricordiamo è presieduto dal consigliere del carroccio Matteo Zoccarato parcheggi per il centro via i lavori nell'area Fox 100 posti diamo qui anche quando entro novembre e poi a caccia delle specie aliene la base in un capanno da pesca diciamo che di specie aliene ormai nei nostri mari ce ne sono davvero diverse sta di fatto che c'è un progetto del comune che appunto prevede questo capanno sulla sponda del deviatore lato San Giuliano l'area appartiene al demanio idrico per gli uffici pubblici sarebbe il luogo ideale dove procedere con attività tecnico-scientifica necessaria per la ricerca la raccolta di dati e altre informazioni proprio sulle specie aliene che arrivano dalle nostre parti la disfida delle spiagge il titolo per il tema delle concessioni il comune si mette in moto verrà istituito un tavolo tecnico politico che fino alla fine dell'anno si riunirà a cadenza settimanale per definire i procedimenti per gli appalti anche perché mancano ormai tre mesi al 31 dicembre 2023 data ultima per l'emanazione dei bandi delle evidenze pubbliche per la spiaggia ricordiamo che c'era stata una deroga da parte del governo fino al 2024 ma poi ci sono state anche sentenze contrarie per cui insomma bisogna correre ma allo stesso tempo fanno sapere dall'amministrazione già lo dicevamo che mancano delle regole dettate a livello nazionale proprio dal governo botte e insulti alla madre è una notizia che abbiamo già letto sul corriere leggiamo qui solo il titolo arrestato figlio violento donna costretta in carrozzina anche alla presenza degli agenti il 48enne ha cercato di tappare la bocca alla madre per evitare che raccontasse alle divise le vessazioni a cui era sottoposta qui non c'è solo l'ultimo caso ma probabilmente è una storia complessa quella che c'è alle spalle di questa famiglia il chirurgo dei mille trapianti i dottori premiano Matteo Ravaioli al figlio dell'ex sindaco Loiano Planco d'Oro l'onoreficenza assegnata dall'Ordine dei Medici lui dice che è una grande onore vive e lavora a Bologna ma Rimini resta la mia città del cuore una onoreficenza appunto che viene consegnata a chi si distingue nella sanità e dal 2017 che l'Ordine dei Medici ha attivato questo premio tra l'altro anche molto seguito e anche molto prestigioso apprezzatissimo da chi lo riceve la consegna sarà in una cerimonia il 2 dicembre e lui dice sono felice onorato penso che non mi verrà conferito solo per i tanti trapianti eseguiti ma credo anche per le relazioni tenute con i miei pazienti anche qui si parla dell'emergenza migranti con le parole dell'assessore Gianfred arrivano qui tanti minori gestirli è un problema e poi procedendo insieme nella lettura andiamo a Riccione inverno al riparo con il bando salva de ore la commissaria ha incontrato le categorie zone protette per esercizi pubblici hotel restano però da definire le tariffe era stata definita questa procedura questa possibilità al tempo del covid non è poi passato tanto Riccione winter che riguarda ristoranti sulla spiaggia ma anche tanti locali disseminati lungo i viali della città nei prossimi giorni dovrebbe prendere via il bando ma resta appunto l'incognita delle tariffe perché nei primi anni costava zero l'anno scorso l'agevolazione è terminata i titolari dei pubblici esercizi alberghi cominciarono a pagare che erano tariffe decise dalla giunta e tenero conto della richiesta di costi calmierati presentata dalle categorie quest'anno si vedrà come il commissario se sarà lei a dover decidere insomma visto il famoso 10 ottobre come provvederà e deciderà su questa partita scritte al cimitero siamo al cimitero vecchio di Riccione quello che insomma la cui diciamo che il muro corre lungo la pista ciclabile e dopo la denuncia parte l'ordine di cancellarle quindi queste scritte spray verranno rimosse al più presto direi che effettivamente un segno di decoro importante a Cattolica la ricetta di Cattolica per rilanciare il turismo sport, cultura e promozione la sindaca e l'assessore Belluzzi presentano il piano delle categorie appunto si punta sull'estero ma si punta sul turismo sportivo culturale e no gastronomico musicale avendo come riferimento la famiglia questo hanno detto gli amministratori faremo pubblicità sui treni avveremo iniziative nelle stazioni scissiche ma questa attività dobbiamo farla insieme questo l'appello rivolto proprio alle categorie economiche a San Giovanni in Marignano moda parte il corso di alta specializzazione e le grandi aziende che sono proprio a San Giovanni aprono le porte ai giovani coordinato da Cercal pon l'attenzione sull'abbigliamento tra artigianalità e tecnologia Bellaria settembre col turbo chiusura in bellezza il bilancio turistico dell'associazione albergatori ultimo mese della stagione con presenze in aumento grazie a meteo ed eventi queste sono le dichiarazioni della presidente dell'associazione Simona Paglierani che dice spettacoli tutte le sere sui palchi ballerini cantanti nel nome di Raffa hanno fatto insomma la differenza a Sant'Arcangelo si guarda le prossime amministrative amministrative che arriveranno a primavera Samorani prepara il bis la mia lista ci sarà le manovre del centrodestra la civica bene in comune si ricandiderà noi alleati con i partiti prima i programmi stavolta dice Samorani abbiamo più di quattro anni di esperienza alle spalle siamo convinti oggi più di allora che una lista civica sia fondamentale per intercettare i bisogni e le esigenze dei Sant'Arcangelesi e chiudiamo con due notizie una da Samorani il Fondo Monetario Internazionale ha fatto con gli esperti è arrivato proprio sul Titano e ha definito Samorani un paese in crescita in particolare gli esperti puntano i fari sul settore manufatturiero competitivo ma anche il boom del turismo e poi a Riccione sempre una bella stagione svelato il cartellone teatrale da Ambra a Fabrizio Gifuni da Elio Germano a Isabella Ferrari tantissimi i protagonisti sul palco una nuova platea al Palazzo del Turismo e riparte il cantiere come abbiamo già detto dello spazio Tondelli e con questa notizia noi arriviamo al termine della nostra rassegna stampa di questo venerdì 29 settembre ora l'informazione a carattere nazionale poi torniamo con il nostro primo telegiornale grazie per averci seguito a voi tutti l'augurio di una buona giornata Oggi in Edicola Rassegna stampa